Il Natale è considerato tuttora la festa più importante dell'anno nel mondo occidentale, ma qual è il suo significato originario? Il Natale, nell'antica tradizione europea, era la festa del sole, il sole simbolo di luce e di vita. Questo perché il solstizio d'inverno, che avviene il 21 dicembre, è la giornata più corta dell'anno, in cui la durata della notte è appunto la più lunga e quindi veniva percepita dagli antichi come un momento critico per il sole, quindi si temeva che il sole in qualche modo potesse morire. Il Natale era la festa della rinascita del sole che ricominciava il suo ciclo di nuova luce dopo appunto la notte più corta dell'anno. E il sole, celebrare il sole, la vita, la luce, cosa significava? Significava festeggiare con una gioia immensa questo ritorno alla vita e al sole inoltre corrisponde il cuore, quindi nel macrocosmo ciò che è il sole, ciò che illumina a scalda e da vita, nel nostro microcosmo, nel microcosmo dell'uomo è il cuore. E si faceva quindi una grande festa con grandi banchetti e festeggiamenti e c'erano tradizioni e rituali. Il rito è importantissimo perché il rito unisce, diciamo, gli dèi e l'uomo, il cosmo, il funzionamento del cosmo che è ordine, che è vita, per l'uomo antico era molto importante, mentre noi moderni non lo riconosciamo più, non siamo più legati alla natura. Invece la natura, che era il cosmo, che viveva secondo i suoi ritmi, che l'uomo antico conosceva molto molto bene, diciamo come si collegava questo ordine cosmico con l'uomo, attraverso il rito. Il rito era un patto tra gli dèi e gli uomini, che garantiva il buon funzionamento del tutto. E cosa succedeva? Quindi in questa notte così lunga, in questo giorno, in cui il sole sembrava poter morire, sembrava perdere la sua forza, allora venivano compiuti dei riti che aiutassero il sole, perché laddove diciamo non intervenivano gli dèi doveva intervenire l'uomo ad aiutare e quindi anche l'usanza di accendere un ceppo, quindi la notte dalla vigilia, fare questa veglia con questo ceppo che veniva acceso e doveva durare, il fuoco doveva durare fino al giorno successivo, doveva superare la notte. Ecco con questo l'uomo aiutava il sole a rimanere in vita e noi appunto abbiamo perso il significato di queste tradizioni, abbiamo perso il collegamento tra uomo e natura, però per chi diciamo invece si sente ancora collegato, per chi vuole conoscere le antiche tradizioni, ecco questo era un po' il significato del Natale, quindi poi la data fu stabilita il 25 dicembre e comunque è in corrispondenza molto vicina al solstizio d'inverno ecco e la ricchezza dei banchetti davvero era un modo per festeggiare questo momento importantissimo della vittoria della luce sulle tenebre, il sole che ovviamente è quello che dà vita dalla luce del sole poi dipende la vita sulla terra, per cui ecco se volete diciamo sentirvi collegati a questi riti, a questi ritmi naturali ovviamente potete sfruttare la notte della vigilia per fare effettivamente una vera veglia, cioè per accendere la vostra coscienza, per mantenere diciamo davvero dentro di voi uno stato di veglia e attendere poi questo risveglio, questo rinnovo del ciclo dell'anno in questo momento così importante, quindi anziché lasciare passare le festività pensando solo all'aspetto più materiale, commerciale come ormai facciamo tutti noi, immersi in una frenesia che ci fa perdere tutto il significato, diciamo compiere una veglia consapevole e tenere acceso anche dentro di noi un fuoco, potete anche accendere davvero poi una candela e se avete un camino potete fare in modo di accendere un fuoco che duri fino al giorno successivo, ecco per chi ne ha la possibilità è veramente una bellissima cosa. Per questo video è tutto, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al mio canale, mi raccomando attivate la campanellina per avere sempre le notifiche dei nuovi video.